come cambiare il mondo condividendo oggi non mi possa avventurare proprio fuori diciamo nei praticelli perché gli ha dato giù bella pesante gli ha scrosciato parecchio per un bel po i prati sono tutti proprio che stanno facendo le feste come avessero fatto 13 sono tutti là se tu vai a vedere le spigliette proprio le foglioline del prato sono tutte fanno si fanno le docci bagni proprio questo è per tercera è la pioggia è tutto non tanta non di quelli giorni di pioggia poi oggi poi dopo per la temperatura uccellini uccellini il sole spunta ecco così ma ragazzi di che ti volevo parlare oggi io volevo dirti robin che ho visto che dov'è dove è stato ho saputo da fonti così diciamo un po dentro a dentro agli tuoi affari che tu ti ha fatto un capitolo dentro il tuo libro che sta per pubblicare si chiama cambiare il mondo condividendo ma di che diamine sta dicendo ma che come si fa a cambiare il mondo condividendo cosa intende specificamente se vuoi cambiare il mondo condividendo si intende che se tu non vai la fuori non tarmi dei corazze e dei spade le fonderie dei martelli di scudi delle cose per scolpire e lo va a cambiare il mondo la realtà qua fuori istantaneamente così come sarebbe la cosa migliore che si potesse fare se tu non sei di questa categoria il mondo lo può cambiare comunque può contribuire a cambiarlo comunque se dai le ali se metti le ali se fa volare le idee le scoperte i prodotti i servizi e i nuovi punti di vista di qualcun altro che vuole cambiare le cose non c'è bisogno che va tu personalmente a cambiarle tu puoi fa benissimo da ripetitore da fionda che rilancia la cosa trovi un'idea interessante trovi un concetto bello trovi ma anche uno alla bancarella del mercato e vende le fragole vuoi questa persona dovrebbe stare al parlamento che fa compri le fragole le porti in giro con te in bella vista se qualcuno ti ferma dice ma che c'hai delle fragole e li fa sto qui che le distribuisco gratis e le condividi le condividi proprio di brutto la cosa pensi che succeda allora se queste fragole piacciono quello ti domanderà ma dove ha preso queste belle fragole e tu gli dirai guarda l'ho presa quella bancarella la e l'ho presa quella bancarella la e l'ho presa quella bancarella la e a forza di dirlo questa bancarella farà così tanti soldi che questo qua si potrà comprare tutte le aziende che gli servono per potersi far mettere al parlamento e tu avrai raggiunto il cambiamento che desideri no hai abito quindi nel condividere le idee i progetti le iniziative di quelli che con che il mondo lo vogliono cambiare lo stanno già cambiando tu gli puoi dare le ali quindi se non sei in grado di andare tu là fuori adesso a cambiare le cose che vorresti dai per lo meno il turbo metti per lo meno il turbo a quelli che già lo stanno facendo vai dai